perché giovanni battista tirava le folle giovanni sapeva parlare al cuore della gente ed i suoi gesti erano garanti della sua profonda spiritualità era considerato un uomo di dio chi sono coloro che oggi nel nostro mondo autoreferenziale ci guidano verso la verità e la felicità il papa il vescovo i sacerdoti e i laici che annunciano con entusiasmo e fortezza il messaggio di dio per il mondo sei mai stato un giovanni battista per qualcuno prega oggi per la persona che più di tutti ti ha aiutato a progredire nella vita spirituale